ciao maria su e niente io oggi sto qua per farti questo video messaggio perché purtroppo le cose guangerina non vanno più bene e sì perché dopo la pandemia mi ha sbroccato mi si è messo a fare il polo ripieno a citrosi la dieta ripassata alla mughina e il caffè corretto all'isofo e dopo trent'anni queste cose non si fanno no e quindi io stavo a pensare se magari la proposta del matrimonio che tu mi hai fatto era ancora valida perché sennò qua io mi ha detto nel come si dice scherzi a parte margherita spero mi avrai riconosciuto sono fabio bosco sono un tuo grande fan da tanti anni e ho voluto omaggiarti con questo piccolo video gag perché comunque sia per me sei sei stata e lo sei sempre una grande attrice lo sarai all'infinito e oltre questo sei una grandissima persona e questo a me piace molto perché di solito tanti attori sono un po così se la tirano no e tu invece sei proprio una persona vera e lo vedo da quello che scrivi su facebook e questo per me è un grande piacere io spero che un giorno dovrei fare delle serate nel ticino e quindi magari nel tornare giù potrei deviare per torino e passarti a trovare se tu giustamente ne avrai il piacere e soprattutto se ci aiutano un'altra volta perché qua ci stanno sempre a chiuda margherina quindi a parte questa gag io ti mando un grandissimo abbraccio virtuale e spero di incontrarti e conoscerti dal vivo ciao